Il Natale sembra ormai lontano, in realtà sono passati pochi giorni dal tempo di Natale con tutta la sua intensità e la carica di gioia che porta con sé e come sempre insomma all'inizio del tempo ordinario, la ripresa anche della nostra vita più ordinaria e quotidiana anche il Vangelo ci racconta pagine di quotidianità e quest'oggi una che conosciamo molto bene, l'inizio appunto del Vangelo di Marco ci racconta di una vita, quella di Gesù vissuta in Galilea, non a Gerusalemme, cuore della storia e della sua storia ma un po' più lontano, in Galilea, in mezzo alla gente, gente tra le più diverse appartenenze e delle più diverse nazioni ed etnie è interessante allora guardare con i nostri occhi la vita di Gesù e immaginare anche come i suoi occhi guardassero quella vita di ogni giorno il Vangelo appunto è ambientato in questa località a nord di Gerusalemme in un paesaggio splendido in questo lago che evoca i ricordi dell'infanzia per lui e delle origini della nostra vita e della nostra vocazione come della sua e dei primi apostoli allora è bello che il Vangelo scelga di descrivere in poche parole, molte meno di quelle che useremo noi per descrivere le nostre giornate, la quotidianità della vita di Gesù a questa descrizione appunto quest'oggi viene accompagnato lo stupore della gente che è intorno a lui per due volte l'Evangelista dice che la gente è stupita appunto dell'insegnamento di Gesù perché parla come uno che ha autorità mi chiedo, mi sono chiesto appunto quanto riusciamo a stupirci delle cose normali che accadono a noi e delle cose normali che accadono nella vicenda di Gesù stesso forse questa normalità ci fa un po' suoi fatti anestetizzati e invece può essere ancora quest'oggi il luogo dello stupore in particolare l'Evangelista annota, ricorda, sottolinea come ciò che più stupisce la gente è l'autorità di Gesù la sua auctoritas, potremmo dire la capacità di aumentare la vita nella vita stessa perché non è uno che comanda semplicemente agli spiriti impuri perché facciano qualcosa ma la sua stessa vita, la sua stessa autorità è capace di promuovere la vita degli altri nel servizio, nella missione che il padre ne ha donato di compiere e infine appunto in questa scena fa capolino questo signore che potremmo chiamare un posseduto uno che ha uno spirito impuro, probabilmente una malattia o qualcosa del genere e al quale il signore fa un invito e dà un ordine molto preciso vai e non dire a nessuno quello che stai dicendo, non rivelare la mia identità come dire, comprendere lentamente chi è Gesù richiede molto tempo e una certa gradualità non è possibile capire tutto subito ed esibirlo in modo troppo sfacciato ecco ci aiuti il signore davvero a non farci sedure insomma da questa fama facile che con poco attrae riconoscimenti a destra e a sinistra ma vivere nel nascondimento della quotidianità e nell'umità per riconoscerlo passo dopo passo in ogni giorno della nostra vita così normale eppure così straordinaria